L'assurdità di queste ore è che domani ci sarà la premiazione per la bandiera blu e allo stesso momento ci sono spiagge rose dal mare e soprattutto di vieti di balneazione in diversi tratti del litorale dall'Arzilla a Gimarra a Ponte Sasso. Il problema in particolar modo dell'erosione è molto grave perché questa giunta ha fatto tante promesse. C'era un progetto risalente addirittura al 2010 modificato nel 2014 dove le scogliere erano previste fino al porto di Fano. Dopo diversi incarichi questa giunta ha deciso di modificare questo progetto anche su input della regione accorciando quindi risolvendo il problema per alcuni stabilimenti danneggiando fortemente Bani Carlo, Bani Gabriele e Bani Maurizio anche in parte Peppe. Quindi io cosa chiedo sostanzialmente con un'interrogazione che porterò in Consiglio Comunale? Di smetterla di prendere in giro i bagnini, i bagnanti perché poi chi purtroppo viene danneggiato sono anche gli utenti finali quindi siccome si sentono ancora promesse da un anno deve essere fatta un'altra scogliera poi altre due io chiedo ai bagnini di far caso alla regione e anche al Comune di Fano perché è compartecipe di questi danni e quindi invitare anche chi ci rappresenta a smuoversi e immediatamente trovare i fondi necessari per partire sin da subito dopo l'estate. I bagnini non possono più aspettare. Non ci sono bagnini di serie A e di serie B ed è giusto che chi è deputato quindi il Comune e la Regione intervenga subito e risolva questo problema annoso che non riguarda solo Sassonia perché ci sono anche tratti di litorale che vengono danneggiati. I soldi se li hanno si spendono e spandono soldi a destra e manca ad esempio 900 mila euro per il Pincio quando c'era già un progetto da 300 mila euro. Non si capisce per quale motivo per alcuni interventi i soldi ci sono e per altri molto più urgenti che danno lavoro a decine di giovani e non solo della nostra città i soldi non ci sono.